Camimo, siete tornati in vetta da soli? Sì, questo ci fa piacere ma come ho detto un tuo collega non è quello che guardiamo. Io oggi guardo un'ottima prestazione, soprattutto a livello difensivo, dove la squadra poteva avere una settimana di calo, perché dopo una prestazione importante come la Spezia oggi si poteva avere un calo, invece durante tutta la settimana le ragazze sono state concentrate e oggi hanno fatto quello che avevamo chiesto. Quindi sicuramente sono molto molto soddisfatto della prestazione. Volevano tornare a vincere qui al Palavazzeri dopo quella battuta d'arresto? Ma sì, c'è un po' di pressione in più quando giochiamo in casa, perché molte di loro non sono abituate a questo splendido pubblico, che ringrazio di cuore perché veramente ci danno un'energia incredibile. Quindi molte volte fuori casa forse siamo anche un po' più serene, abbiamo meno il peso della responsabilità. Però direi che oggi dopo un avvio così un po' sofferto, le ragazze hanno lavorato bene sia in attacco che in difesa e siamo sulla strada giusta. Ho notato anche una maggiore coesione tra Quintetto in campo e la panchina. Noi ci siamo guardati dopo la sconfitta di Umberti. Devo dire che c'è stata una reazione che solo le grandi squadre hanno. Ci siamo guardati, abbiamo analizzato tutto ciò che non andava e una di quelle era così, anche il fatto che non ci fosse, o meglio, non si sentisse la forza di questo gruppo. Ci siamo unite, ci siamo veramente amalgamate e devo dire che i risultati si vedono sia in campo che fuori dal campo. Di questo sono veramente orgoglioso. Una formalità la prossima gara? Formalità non esistono. Andiamo a affrontare una squadra di ragazzine terribili che devono fare sicuramente un percorso importante per il futuro. Quindi sicuramente una squadra che ha delle difficoltà e che è in dubbio la differenza tecnica. Però noi non dobbiamo sottovalorare nessuno. Anche quello che ti ho detto, noi dobbiamo pensare a noi stessi. Quindi andremo con la stessa concentrazione, con lo stesso rispetto e con la giusta determinazione con cui affrontiamo tutte le gare.